Sono tantissime le telefonate che in questi giorni abbiamo ricevuto per farci le condolianze per la morte di Don Davide e per il dolore che questa ha provocato in noi. In parrocchia come in Caritas è un continuo di testimonianze di solidarietà per la scomparsa di Don Davide Schiavone. Da 2008 il direttore dell'organismo diocesano per le persone povere in difficoltà si è sempre prodigato per gli altri fino all'ultimo giorno quando il primo novembre in procinto di uscire dalla casa della Carità dove abitava per celebrare la messa nella chiesa di San Pio X il suo cuore ha ceduto. Aveva scelto di abitare dentro la sede della Caritas per essere sempre vicino agli ultimi e lì nel 2019 aveva accolto il vescovo Michele Tomasi il giorno del suo insediamento nella diocesi di Treviso. Con il progetto rifugiato a casa mia aveva affrontato le emergenze immigrati e richiedete asilo e oggi alcuni di loro sono diventati volontari e operatori. Ma la vocazione Don Davide l'aveva abbracciata nel 1995. Prima cappellano a Martellago poi a Nervese dalla battaglia a Bavaria e poi ancora parroco di Levada e Torreselle di Piombino Dese. Tante dunque le comunità che lo piangono e tantissime le persone che lunedì vorranno essere presenti all'ultimo saluto ma non tutte riusciranno ad entrare in cattedrale a Treviso e per questo Antena 3 trasmetterà in diretta i funerali presieduti dal vescovo Michele Tomasi. Lunedì quindi dalle 10.45 ci collegheremo con Piazza Duomo ricordando la figura di questo sacerdote con chi ha vissuto a più stretto contatto con lui per poi seguire la celebrazione fino al suo termine quando Don Davide sarà accompagnato al cimitero di San Donà dove riposerà nella cappella dei sacerdoti originari di quel tratto del Piave. Veramente Don Davide era una profezia che ci invitava ogni domenica all'attenzione ai più poveri di questa società e del mondo. Non solo ma posso dire che abbiamo condiviso con lui e io ho condiviso con lui 11 anni di passione per il Vangelo e per il servizio di questa Chiesa. Speriamo che la sua profezia diventi un segno che ci illumina il cammino per il nostro futuro.